buonasera cari telespettatori grazie per aver scelto anche questa sera di seguire il sottoscritto ma soprattutto il gruppo editoriale tv7 questo è ai reporter per te una puntata come nelle anticipazioni appunto già vi suggerivo proprio dedita a un materiale molto pericoloso molto particolare che ancora presente nel nostro territorio parlo a tutto tondo quindi dell'italia sto parlando dell'amianto quindi ci focalizzeremo con vari esperti vari settori differenti su questo materiale amianto pericolo ancora presente partiamo subito con una dottoressa la dottoressa elisabetta balestro responsabile centro malattie rare del polmone di pneumologia dell'azienda ospedaliera di padua grazie per essere qui a nostra disposizione spero di non violare troppo la privacy dicendo che in dolce attesa io lo dico perché insomma sono un papà è un qualcosa di bello insomma ok no non è evidente perché tutto nascosto e celato dalle varie grafiche non si nota però è una cosa bella e le belle cose bisogna dirle esatto quindi sono d'accordo grazie allora parliamo di questa problematica anzi di varie problematiche legate appunto a l'inalazione all'inalamento inalamento inalazione non sono un medico sono ignorante ognuno suo e di questo insomma materiale prego allora intanto l'amianto molto spesso destra un attimo di stupore non tutti lo conoscono nel senso che sono conosciuti forse più i materiali che hanno usufruito dell'amianto vedi linoleum vedi ethernet quindi le costruzioni che sono ricoperte di ethernet ma l'amianto di fatto è un minerale naturale proviene dal chimica estrattiva e fa parte dei classici silicati quindi dei polveri di silice utilizzato spesso nel cemento ma le particolarità di questa di questa sostanza di questa struttura amianto è che è costituita da fibre che si chiamano asbesto e queste fibre di asbesto guarda caso la loro traduzione vorrebbe dire delle fibre che non muoiono mai e questo è un concetto fondamentale perché poi purtroppo si ripercuote su tutto il nostro organismo quando ne veniamo a contatto però che caratteristiche hanno queste fibre di amianto oppure di asbesto hanno delle caratteristiche perdoni se la interrompo penso che i suoi capelli frivolino sul microfono così forse si sente meglio la gentilezza e scusi se ho interrotto prego così dovrebbe andare bene soprattutto perché i due concetti fondamentali che ci interessano è che hanno queste fibre hanno delle caratteristiche molto 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 patognomoniche particolari prima di tutto come sempre un colpo d'occhio per far vedere questo è il materiale sostanzialmente più comune però vediamo anche i rivestimenti di capannoni che non sono mai stati smaltiti che sono tipici quelli ondulati su vari capannoni che magari nelle case ancora di campania esistono queste fibre sono prima di tutto volatili vuol dire che non si vedono e vengono inalate il grosso problema però di queste fibre è che sono talmente piccole che vanno a essere inalate raggiungono la profondità del polmone polmone nella sua più piccola unità funzionale quindi intanto parliamo di vie aeree che è il primo primo bersaglio quindi le fibre possono girare da un capannone a un altro da una casa a un'altra per farvi un esempio e sono talmente più più piccole di un capello che per dire si pensa e si stima si è quantificato che in un centimetro ci stanno ben 250 capelli mentre in uno stesso centimetro ci stanno ben 300.000 fibre di questa sostanza questo vuol dire che è facile che arrivi nelle vie aeree di chiunque ne venga a stretto contatto io raccolto velocemente qualche insomma importante notizia l'ameante appunto è stato utilizzato fino agli anni 80 per la come materiale da costruzione appunto per l'edilizia sotto forma di composito fibro cementizio noto appunto con il famoso nome di ethernet utilizzando per fabbricare tegole pavimenti tubazioni vernice canne fumarie e inoltre nelle tute dei vigili perché ce ne dimentichiamo ma io ricordo ad esempio a milano noi sotto la metropolitana avevamo la coperta d'amianto in caso di incendio perché era un materiale perfetto per l'isolamento questo l'ha azzeccato questo termine e addirittura pensate nelle auto vernici parti meccaniche materiali d'attrito per i freni dei veicoli guarnizioni ma anche per la fabbricazione di corde plastica e cartoni inoltre la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadjuvante nella filtrazione dei vini questo a me ha sconvolto quindi proprio una cosa che uno inala tranquillamente neanche lo sa altro uso diffuso era come componente dei ripiani di fondo dei forni per la panificazione pazzesco la prima nazione ad usare cautele contro la natura cancerogica cancerogena dell'amianto tramite condotti di ventilazione e canali di sfogo fu il regno unito pensate nel 1930 a seguito di pioneristici studi medici che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori nel 43 si sveglia la germania riconoscendo il cancro al polmone e la mesotolini ok grazie dell'assist e noi che siamo sempre avanti nel 1992 diventa fuori legge la produzione e la lavorazione ma non la vendita esatto questo è stato il grosso problema per cui l'aspetto drammatico è che questo materiale danneggia l'organismo soprattutto le vie aeree il polmone e quello che riveste il polmone che noi chiamiamo mesotelio con questa parola strana ma è un foglietto di rivestimento del polmone ma può danneggiare anche altri organi se viene ingerito come citavamo prima nel materiale che viene usato per la produzione del vino quindi non da questa immagine vediamo se l'ho azzeccata perché ripeto non essendo un medico a volte noi giornalisti sbagliamo è indicativa sono ovunque esatto sono questi appunto via aeree e quindi può venire a contatto la prima via aeree che sono i bronchi la trachea il polmone e quindi dare il cancro del polmone i foglietti che rivestono il polmone e quindi dare l'asbestosi le placche pleuriche ma soprattutto questo mare del secolo che è il mesotelioma ma perché parlare di mesotelioma che a noi preme tanto noi medici per soprattutto quando indaghiamo i nostri malati perché purtroppo è una malattia tumorale suddola che arriva dopo anche 20 30 40 anni dall'esposizione quindi uno pensa di avere sfidato il destino di averla passata in maniera tranquilla quindi di essere stato esposto magari per poco tempo e non con dosi elevate oppure essere stato esposto a distanza per via di un capannone eppure il problema è che magari le fibre sono state già inalate già stanno producendo l'effetto. Sere fa io ho parlato con amici perché chiunque poi venga qui diventa un amico per quanto mi riguarda del rock 1 dove si parlava appunto sia di questo cocktail purtroppo di amianto polvere di amianto che del gas che fuoriesce il radom naturalmente dal terreno e non è che come avete ben capito subito immediato l'ammalarsi ma dopo anni dopo tante esposizioni giusto questo vale anche per l'amianto perché a volte ci si spaventa in questi giorni e a breve parleremo anche con Piero Ruzzante che ha fatto proprio un'interrogazione in regione su mappare innanzitutto le rimanenze di questi capannoni o detti che sono da bonificare perché non è stato ancora fatto e c'è stato brutto tempo alcuni pezzi sono volati la gente si allarma si spaventa perché dice che faccio lo prendono lo recupero come funziona proprio da qui nasce appunto la voglia di parlarne e lo stato di allarmismo che può essere per chi si approccia a questo problema può essere anche fisiologico e naturale pensare che rappresenti un non è per una volta che lo inali che arrivi a avere patologie di questa importanza tempo addietro era una lavorazione diretta poi si è parlato di lavorazione o mancata lavorazione di esposizione indiretta quindi la presenza di queste fibre che giorno dopo giorno si entra in contatto per anni e quindi si ha l'incontro di questa esposizione che dura per parecchio tempo e anche l'incontro purtroppo dobbiamo sempre parlare anche di suscettibilità genetica quindi è sia il soggetto un po predisposto e l'ambiente che gli sta attorno quindi per bene o male quasi tutte le malattie anche per il cancro e anche per il mesotelioma è l'unione di questi due fattori quindi l'allarmismo è giusto che ci sia perché la bonifica va fatta però è anche vero che non basta l'esposizione di un giorno esatto così non non creiamo allarmismo e panico per il fatto insomma certo di questo maltempo di trovare purtroppo magari un pezzo in giro di passare e a volte per le discariche abusive come quella che vi sto mostrando quali sono in generale però le sintomologie oppure i campanelli d'allarme di questi problemi esatto allora intanto è vero che tutti noi sappiamo questo termine questa malattia che è il cancro della pleura il mesotelioma dall'altra c'è anche il cancro del polmone e sono due situazioni di tumore che sono ben diverse perché mentre il cancro della pleura il mesotelioma quello più strettamente legato a queste fibre di asbesto insorge in maniera subdola e con tutti questi anni di latenza e come insorge semplicemente con una graduale sensazione di mancanza del respiro con gli sforzi abituali che uno compie se uno non compie sforzi nella propria abitudine di vita certo questo sintomo lo avvertirà quando molto tardi esatto mi stiamo venendo appunto sul termine molto più avanti esatto molto più avanti quando da già il danno è stato fatto purtroppo quindi è vero che purtroppo una malattia da cui non si guarisce ma è anche vero che purtroppo noi non siamo in grado di fare una diagnosi di osservarla precocemente ed è proprio questo il grosso problema perché la si osserva sempre quando è roma in manifesta e di terapie oggettivamente non ne abbiamo perché le terapie possono solo un po rallentare ma di fatto si sa che dopo che avviene una diagnosi quando lo si osserva e il problema già porta a una un avanzamento tale per cui si può avere una sopravvivenza molto molto ridotta una scemata per un medico me ne rendo ben conto a volte in un caso del genere è meglio non scoprirlo e andarsene tra virgolette in pace spesso spesso facciamo anche questo è meglio non parlare di quello che si è venuto a creare nel paziente soprattutto perché a volte abbiamo anche persone più anziane per cui si accorgono del sintomo sempre di più però ebbene forse che non venga reso manifesto proprio per non sapere da che cosa proviene però c'è l'altro in questo tipo di situazione cioè fate partecipare solo la famiglia la famiglia però dall'altra però c'è il risvolto della medaglia che è assolutamente obbligatorio oggi rendere nota la malattia professionale quindi quindi di fatto si cerca un compromesso perché la persona non ne abbia troppo un un impatto nei confronti di questo male che è incurabile perché oggigiorno tutti quanti vanno su internet tutti quanti cercano la possibile terapia che non c'è e quindi tutti quanti vengono a sapere ancora prima magari di avere il colloquio col medico l'infausto che la sopravvivenza è di un anno no però stavo pensando agli anziani senza denigrarli logicamente ma col rispetto stavo dicendo non tutti loro sono così tecnologici e quindi magari c'è appunto un impatto meno pesante sì perché è vero quando tu hai una patologia o un qualcosa vai subito a cercare in internet non siamo medici e vedi sempre delle immagini di alieni che arriva dallo spazio e tu dici oh mamma cosa mi è capitato quindi capisco e cosa fare però per prevenire tenersi a distanza come comportarsi con una problematica così insomma seria di fatto la prevenzione è l'eliminazione dell'esposizione come sempre si parla questo concetto fondamentale lo si esprime sempre anche nei riguardi del fumo di sigaretta quindi sia per il tumore il cancro del polmone che in questo caso per un'esposizione che deriva dall'ambiente o di materiali che si possono utilizzare non lo si sa è la mancata esposizione perché purtroppo sulla suscettibilità sappiamo ben poco quindi ad oggi non sappiamo chi è più suscettibile e si ammalerà di queste malattie ma sappiamo solo che è l'eliminazione allora la saluto però con un'ultima domanda responsabile centro malattie rare del polmone quali sono le altre che non conosco un altro grosso problema che non è cancro ma ci assomiglia molto per la sopravvivenza e per la proniosi per l'avanzamento della malattia sono le fibrosi polmonari ed è vero anche che questo questo amianto le fibre di asbesto possono non solo dare in alcune persone il mesotelioma il cancro del polmone ma possono anche causare la fibrosi polmonare che è una riduzione del polmone a cicatrice quindi immaginatevi una cicatrice sulla pelle estesa per tutto il vostro polmone che è il nostro la nostra modalità di respirare e questo può essere causato anche dalle fibre di asbesto con un trapianto si può salvare la persona sì quando si arriva ad avere l'organo disponibile che si prende in tempo certo grazie allora io devo ringraziare congedandola la dottoressa elisabetta balestro responsabile appunto centro malattie rare del polmone ricordiamo di pneumonologia azienda ospedaliera di padova grazie per essere stata a disposizione lancio il bk in terminologia televisiva quindi la pubblicità sappiate che parleremo subito dopo con altri ospiti sempre di questa tematica a tra poco grazie a tutti grazie a tutti